Amici di Spazio 5, buonasera, siamo insieme a Giuliano Francesco, della Vila Novetta, rappresentativa. Giuliano, per te, cosa vuol dire? Per me vuol dire una buona opportunità, vuol dire, secondo me, un'ottima cosa, una cosa buona. Vuol dire che ci seguono in Piemonte, vuol dire che avremo l'opportunità, cioè di rappresentare il Piemonte, possibilmente i campionati nazionali, penso, e quindi vuol dire una bella occasione, una buona occasione per farsi vedere. E chiunque di noi che è qua spera di essere poi chiamato o più avanti dal mister e di partecipare a questi campionati. Spero che ci conti, ci spera, credo che ci conti ognuno di noi, quindi io come tutti. Siamo insieme a Mocerino Giuseppe del Pinerolo. Cosa ne pensi di questa rappresentativa? Quale opportunità ti dai? È un'esperienza molto importante per noi giovani, perché possiamo avere uno spazio all'interno, soprattutto anche dei grandi. È un'esperienza molto importante che puoi farti vedere all'interno di tutto lo spazio del calcio a 5, uno spazio meraviglioso, secondo me. Quindi possiamo dire che la rappresentativa comunque ti ha dato l'opportunità di metterti in luce e società di calcio a 5 ti hanno visto e oggi ti prendi qua. Sì, è un bel vedere per tutti, secondo me. Prima volta in rappresentativa. Cosa ne pensi? È un'esperienza, secondo me, unica, soprattutto per questo sport che non è molto conosciuto. A me piace molto questo programma perché può far conoscere questo sport. Venire qua non dico che è un'emozione grandissima, ma comunque fa sempre piacere. Secondo te la convocazione della rappresentativa è una cosa dovuta o è una cosa che bisogna guadagnarsela? Beh, io credo che sia una cosa che bisogna guadagnarsela, anche perché non tutti vengono convocati e se fosse una cosa dovuta convocherebbero tutti di ogni squadra. Io credo di essermela meritata, anche perché quest'anno faccio sia campionato junior o scander 21. Mi fa piacere, mi piace questo sport, quindi spero di continuare negli anni.